Volevamo lasciare la parola al discorso di due ragazzi che abbiamo sentito chiacchierare per strada e pensavamo che potesse essere interessante. Sei andata su buona, sei contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sei contare? Sì, sei contare. Sei camminare? Sì, sei camminare. Contare e camminare insieme, cosa fai? Sì, penso di sì. Allora, ragazzi, accontentami. Uno, due, tre, quattro, cinza, sete, o... Siamo che contare, forte, contare carini! Non è il 91, 91, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Lo sai che ci abbia qua? Ah, un Zutlano ci abbia qua! 100 passi ci sono la casa nostra, 100 passi! Vivi nella stessa strada, prendi il cappello nella stessa bar, hanno piedi sembrano come te! Saludiamo a Zutano, il mio secco il Peppino, il mio secco il Giovanni e me che sono loro i padroni di Sisi, e mio padre Luigi infrastato, gli legga il culo come tutti gli altri, non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti del nostro padre. Mio padre, la mia famiglia e il mio paese, io voglio portermene, io voglio scrivere che la mafia e la montagna diventa, io voglio urlare che mio padre non è chiacolo. Mio padre, la mia famiglia e il mio padre. Mio padre, la mia famiglia e il mio padre. Mio padre, la mia famiglia e il mio padre. E vivi così Tra sangue l'innocenza E vivi così Tra sangue l'indifferenza 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.